Marco Vaglini è il comandante generale di Tramontana e vediamo un susseguirsi di iniziative che avvicinano alla manifestazione del fine giugno Pisano, ma sono iniziative che mirano a coinvolgere tutta la città, sempre il punto più possibile della città, a questa manifestazione, non solo il giorno del gioco e della battaglia. Sì, questa è sempre stata un po' la mission del comando di Tramontana con l'associazione Gallo di Borea, abbiamo sempre cercato di aprire le porte della parte a Pisa e anche questa edizione del gioco del ponte a tavola, ma di fatto è la quarta edizione, quindi è comunque di fatto un evento che si era lancato nella città, siamo appena usciti dalla Mimosa Boreale, abbiamo festeggiato la festa della donna il 12 marzo scorso e ci stiamo preparando al concerto di Capodanno, quindi siamo in pieno delle attività della parte che si ci prepareranno poi a giugno Pisano. Ha detto una cosa importante, che ci deve essere anche una risposta della città, per ora questa risposta si è avuta? Sì, ormai sono alimenti attesi, ce li chiedono e quindi siamo sempre più orgogliosi di riproporli, cercando di migliorarli, cercando di fare quel saltino di più di qualità che si confà alle manifestazioni storiche in generale. Grazie, allora in bocca al lupo. A voi.